ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video torniamo a parlare di prodotti sonoff prodotti per domotizzare la nostra casa e mi è già arrivato da un po ma volevo fare un po di test vi parlo di una valvola una specie di elettrovalvola che si monta su un attacco dell'acqua che sonoff ha portato sul mercato e che secondo me ha del potenziale interessante si chiama bsp si trova attualmente solo sul sito ufficiale di tiad ho visto che c'è anche già su amazon italia ma costa molto di più a breve se avete pazienza arriverà sicuramente dai nostri amici di expert for house e vi metterò il link in descrizione appena disponibile magazzino italia consegna 24 ore miglior prezzo praticabile che cos'è è una valvola è un dispositivo elettronico ha delle batterie quindi non ha bisogno di alimentazione esterna serve per essere attaccata su un porta gomma su un rubinetto monta tendenzialmente su tutti gli attacchi di dei porta gomma quelli col filetto grosso per capirci no ma poi ve lo farò vedere serve per domotizzare un sistema di irrigazione un rubinetto che deve riempire un qualcosa insomma voi mi avete insegnato che con la vostra fantasia riuscite a trovare applicazioni per i prodotti domotici che portiamo sul canale molto più avanti di quello che io riuscirei a concepire questa mi è piaciuta ci ho dedicato del tempo sapete che di tempo non ne ho dunque facciamo un passo indietro è un dispositivo zigbee quindi non si collega da solo al wifi non è che lo comprate aprite l'app e we link e lo accoppiate no ha bisogno di un dispositivo di appoggio questa valvola zigbee è compatibile solo con alcuni modelli di hub almeno queste sono le informazioni che mi hanno dato ad oggi poi magari nel tempo cambieranno funziona attualmente con lo zigbee bridge pro versione 2.0 in poi oppure con un ns panel pro versione 3.3 in poi non ho avuto modo di verificare se funziona anche con un iost o altri hub però come indicazioni it ad sonoff mi ha dato queste quindi dispositivo zigbee che è autonomo perché ha le sue batterie basso consumo dovrebbe durare abbastanza si collega al cloud a internet a tutto l'ecosistema passando per un hub per un ponte per un bridge che a sua volta fa l'accesso diretto alla vostra rete internet di casa questo era per darvi l'idea di massima di che cosa stiamo parlando ora non perderei tempo ma mi raccomando iscrivetevi al canale che non costa nulla così lo facciamo crescere porteremo prodotti sempre più interessanti andrei avanti con lo spacchettamento poi facciamo un po di prove eccolo qua sonoff bsp la scatola arancione ci racconta già che è un prodotto zigbee è una valvola per l'acqua sostanzialmente controllo app programmazioni irrigazione ciclica statistica di consumo dell'acqua storico di sei mesi la possibilità di collegarlo delle scene si chiama swv bsp lavora sei volt con quattro batterie da 1,5 volte tipo a zigbee 3.0 lavora da 5 a 60 gradi acqua da 5 a 40 gradi pressione da 0.06 a 0.8 umidità dal 5 per cento al 95 è un prodotto ip 55 dimensioni 152 per cento per 46 colore nero a pc più abs bla 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 va bene niente di particolare tiriamolo fuori ok manuale guida rapida ci dice che quello sopra l'ingresso quella sotto è l'uscita e che questo è il comparto per le batterie e che davanti abbiamo bottone e luce di stato possiamo scannerizzare un qr code che ci porta ad un video tutorial per l'installazione qui abbiamo il nostro prodotto qui c'è un filtro allora esattamente come ce lo presentano quindi la parte frontale con il tasto è il cerchio che si illumina questa parte qui sotto che andrà ad alloggiare le quattro batterie a a ossia stilo notate la guarnizione di chiusura quindi c'è stata un'accortezza anche per questo essendo un prodotto che va in esterno qui abbiamo l'uscita qui abbiamo l'ingresso diamo un'occhiata veloce alle istruzioni allora le batterie ingresso uscita fa l'aggiunta con la scansione con la scansione del qr code la distanza massima di comunicazione di questo dispositivo in spazio aperto e di 130 metri va bene niente di particolare poi troviamo questo che sembra un filtro ma non è e del teflon ok quindi ci danno già del teflon da mettere intorno al filetto per sigillare diciamo a livello di guarnizione eventualmente il tubo in uscita ci procuriamo quattro stilo più più con meno meno più è questo entra in un solo verso quindi entra in un solo modo non potete sbagliare ok lui già si accende e lampeggia di verde quindi potrebbe già essere in accoppiamento apriamo subito l'app we link bisogna andare a cercare il nostro ab zigbee io in questo caso uso lo zigbee bridge pro aggiungi un dispositivo vediamo se lo trova con la luce lampeggiante di verde perfetto un dispositivo trovato andiamo avanti svv ok intanto mi dice che ho un aggiornamento del firmware dell'app zigbee bridge pro allora faccio che aggiornarlo perfetto ora quello che succede nel nostro dispositivo zigbee non ci interessa ci interessa andare a giocare con l'SWV impostazioni nome intanto lo cambierei subito e lo chiamerei valvola ok segnale forte perché siamo molto vicino visualizza come interruttore presa ventola tenda riscaldatore vediamo se c'è qualcosa che gli assomiglia pompa acqua pompa acqua è una cosa che gli può assomigliare tutti i collegamenti con le piatteforme di terze parti la posizione la condivisione crea gruppo quindi possiamo metterlo all'interno di un gruppo di dispositivi scena intelligente possiamo creare uno scenario che sarà un criterio di partenza se che può essere un tocco può essere un'ora del giorno può viaggiare con alba e tramonto o può seguire lo stato di un altro qualsiasi dispositivo che avete dentro e we link io magari voglio che quando un sensore di umidità vi rileva una determinata percentuale che è troppo bassa mi fa partire andiamo a prendere ad esempio il nostro sensore ok umidità relativa inferiore al 50 per cento quindi quando l'umidità è più bassa del 50 per cento salviamo la scena cosa fai vai a prendere il nostro dispositivo intelligente che si chiama valvola e la apri ok quindi questo è un esempio semplicissimo di una scena da creare per far bagnare in automatico non la salviamo registri ci da tutto lo stato di attivazione eccetera che ora non abbiamo produttore modello id niente di particolare qui possiamo attivarlo chiaramente i dispositivi zigbee sapete che hanno un attimino di reazione quindi in questo momento passerebbe l'acqua oppure lo disattiviamo ogni comando che riceve fa un lampeggio poi abbiamo la programmazione oraria quindi possiamo fare una programmazione che ad un determinato orario per una determinata ripetizione dei giorni va a fare l'automazione possibilità di fare un timer quindi lo attiviamo e poi si spegne o attivare un timer ciclico che ogni tot ripete questa temporizzazione nient'altro di particolare non resta che andarlo a montare allora dispositivo che quindi si monta in questo modo leggendo la scritta con l'ingresso e l'uscita possiamo ad esempio interporlo direttamente su un portagomma montato su un rubinetto da mezzo pollice quindi svitiamo eventualmente l'adattatore e siamo già pronti per attaccarci direttamente con lo stesso filetto in fase di sviluppo del prodotto l'azienda mi aveva chiesto conferma di misurare i passi eccetera quindi ero sicuro che arrivava corretto il portagomma che abbiamo tolto da sotto in questo caso lo mettiamo direttamente in uscita e dovreste avere dentro la guarnizione che fa chiusura quindi non è neanche necessario mettere il teflon parliamo sempre di plastica su plastica quindi non esagerate con i serraggi e anche sopra sulla parte dell'ingresso dove c'è comunque il filtro abbiamo la guarnizione che va in appoggio quindi possiamo tranquillamente avvitarlo vi consiglio di muoverlo sempre un pelino mentre avvitate per fare in modo che vada nella sua posizione corretta lo tirate ma senza esagerare perché state avvitando plastica su ferro altrimenti rompete il filetto adesso vi faccio vedere che l'acqua non passa chiaramente con l'attivazione comincerà ad uscire ho già fatto tutte le prove del caso non abbiamo nessuna perdita perché il passaggio è diretto vi faccio solo vedere velocemente che se apro aumenta anche la portata quindi lo abbassiamo un pelino è chiaramente la stessa cosa che abbiamo fatto premendo il pulsante possiamo averla in modo domotico attivando la valvola abbassiamo un pelino ok c'è sempre qualche secondo di ritardo ma è normalissimo per i dispositivi zigbee perché zigbee perché i dispositivi zigbee consumano meno energia quindi con le quattro stilo avremo un'autonomia maggiore di molto rispetto a un dispositivo wifi che durerebbe altrimenti pochi giorni non abbiamo in realtà nell'app una segnalazione di stato batteria purtroppo vediamo solo se è stato già riconosciuto dall'assistente di amazon nuovo dispositivo c'è già una valvola quindi dovrebbe anche già funzionare il comando vocale alexa accendi valvola perfetto chiaramente accendi valvola e il comando per accendere per quello che per il sistema è un attuatore potete poi creare delle routine dove magari dite fai partire la pompa eccetera e lei eseguirà il comando come si fanno le routine l'abbiamo già visto in tantissimi altri video spegni valvola ok ora vado a provarlo veramente in giardino così testiamo anche la portata chiaramente potete montarlo anche direttamente su un sistema di irrigazione lo simuliamo con una pompa avvolgibile qui collegata però il concetto è lasciarlo collegato ovviamente con maniglia aperta serrare tutto montare il portagomma sulla parte inferiore e voi avete domotizzato il vostro attacco dell'acqua che chiaramente potete aprire premendo il pulsante ma il bello è che magari avete che ne so un orologio con il sistema di alexa integrato lanciate il comando vocale e potete dire accendi valvola e voilà quindi chiaramente oltre ai comandi vocali avete poi tutto il discorso delle routine programmazioni eccetera ma chiaramente anche come avete visto il comando manuale calcolate che l'hab zigbee è lì sotto in quella taverna a circa 5 metri ho provato a portarlo un po' per tutto il giardino e ho visto che prendeva e rispondeva se riesco faccio dei test magari fino in punta la via allora detto fatto ho la valvola in mano quella è casa mia adesso mi allontano un attimo me ne vado in fondo la via mi metto un attimo qui all'ombra così magari vediamo il dispositivo proviamo a farlo azionare col comando vocale accendi valvola valvola non risponde vedete che siamo un po' lontani proviamo ad avvicinarci un po' qui siamo dietro una cinta più o meno una decina di metri da casa mia riproviamo accendi valvola non ne vuole sapere avviciniamoci un po' andiamo un po' fuori dal giardino ci mettiamo qua rifacciamo il test accendi valvola non ci siamo ragazzi vedete prima ero in quel punto lì del giardino e prendeva qui fuori non prende non abbiamo forse poi tutta sta portata proviamo qui vicino a casa qua sono direttamente fuori dal mio giardino accendi valvola e qua prende vedete che ha cliccato ha preso il comando il mio giardino e là dentro dal punto qua dietro il furgone abbiamo passato più o meno 6 o 7 metri di prato e il muro che confina con la taverna dove dentro ad altri 4 5 metri c'è l'hab zigbee perfetto quindi questo cosa vuol dire che non ha centinaia di metri di portata il sonoff zigbee bridge p ce l'ho qui dentro questo armadietto grigio da qui al muro della casa ci sono circa 6 metri poi bisogna passare un muro spesso così e siamo nel mio giardino da lì facciamo ancora 8 9 metri per arrivare nel punto dove ero più lontano della cinta stiamo parlando di circa 15 metri di trasmissione con un muro in mezzo un giardino lo facciamo secondo me sì se riuscite a mettere lo zigbee bridge in un punto più vicino possibile all'area esterna o magari con una scatola protetta qualcosa proprio in esterno sicuramente avete più copertura perché magari potete fare un sistema a più zone e gestirlo come meglio vi serve però il prodotto funziona bene ora sicuramente avrete magari visto altri video e vi sarete accorti che nella mia app mancavano un sacco di opzioni in effetti appena arrivato il dispositivo appena installato e molto probabilmente con il bridge ancora ad aggiornare non avevo tutte le funzioni disponibili quindi ho disaccoppiato il dispositivo ho verificato di avere lo zigbee bridge pro aggiornato l'ultima versione ho riacquisito il dispositivo e l'ho fatto di nuovo tramite la procedura dentro lab e non con la scansione del qr code mi è comparso di nuovo il dispositivo ma con tutte le nuove funzionalità che adesso vi faccio vedere intanto avendolo resettato non ho più il nome di prima ma si chiama semplicemente swv vi vi faccio vedere subito entrando nel dispositivo che cambia completamente la schermata a parte che più carina ma poi abbiamo un sacco di informazioni perché abbiamo l'ora in cui è partita l'irrigazione abbiamo qua sopra in alto il simbolo di quanta batteria c'è ancora abbiamo anche una funzione meteo che ci dà le condizioni climatiche e le temperature poi abbiamo il tempo nel quale ha girato l'irrigazione e il volume di litri che ha fatto passare se io adesso l'attivo qui sotto col tasto on mi parte l'uscita dell'acqua che ce l'ho di nuovo montata nel lavandino qua in garage forse la sentite vedete che tra un po' e calcolate che la manuia la maniglia è circa a metà perché sennò mi spara via l'acqua vedete che ha già contato un litro d'acqua quindi molto importante perché riesce effettivamente anche a contare quanta acqua state sprecando ok fermiamo l'irrigazione e lui mi ha detto che ho bagnato per 30 secondi e che ho fatto fuori due litri d'acqua poi possiamo praticamente fare una programmazione con un tempo che può durare minuti secondi ore oppure addirittura possiamo impostare una capacità quindi possiamo decidere di erogare 30 litri d'acqua e poi si ferma possiamo fare un'irrigazione singola o ciclica e diventa in questo modo molto interessante abbiamo qua dei record che è lo storico di quello che abbiamo fatto adesso nell'ultima ora non abbiamo fatto nulla se andiamo in daily quindi nel giorno vediamo che abbiamo erogato un tot di acqua se andiamo nel mese vediamo che ad esempio il 24 luglio abbiamo erogato per 240 minuti e che abbiamo fatto fuori quasi 1200 litri d'acqua lì l'ho lasciata proprio aperta per vedere se riusciva a gestire un conteggio anche di un valore importante quindi molto carino poi le impostazioni sono sempre le stesse abbiamo l'ultima versione tutto quello che avevamo visto in precedenza però in questo modo abbiamo tutte queste nuove funzionalità se anche voi fate l'installazione non vi compare verificate di avere il bridge aggiornato togliete il dispositivo lo riaccoppiate e dovrebbe comparirvi tutto prodotto interessante abbiamo sempre dovuto arrangiare sistemi di irrigazione con dei sonoff 4ch o con altri dispositivi che abbiamo portato sul canale questo è molto comodo perché semplicemente con un attacco dell'acqua montate lui e riuscite a gestire parecchie cose magari mi vengono in mente quegli irrigatori a ventaglio che si mettono in mezzo al giardino insomma potete collegarci un sacco di cose ma potete anche utilizzarla per decidere di mettere 30 litri di un liquido dentro una cisterna chiaramente il dispositivo è fatto per l'acqua io non so quali altri liquidi possono passare senza distruggerlo però di fatto è un elettrovalvola che si apre questo è tutto la terrò montata ancora un po così vediamo quanto dura la batteria come si comporta eccetera se il video vi è piaciuto un bel like mi raccomando che non costa nulla noi ci vediamo al prossimo video di qualsiasi delle playlist che crescono sempre di più nel canale prossima diretta del giovedì o se passate il negozio da torino vi offre un caffè grazie a tutti ciao da massidattoli